Giovanni Leveghi e Andrea Grassi, in arte Bertra e Camper, sono due youtuber molto conosciuti soprattutto nelle tendenze della categoria gaming di youtube. I due gestiscono il canale iNob Channel, il quale ha più di 1000 iscritti. Fondato inizialmente dallo scarso, di cui però non si hanno più notizie da quando il signor Grassi ha scoperto come monetizzare su youtube. Giovanni e Andrea si conoscono dal lontano 15 e 18, facendo amicizia durante la difesa del Piave. I due hanno anche combattuto contro il famoso, ma poco conosciuto, Silurus Glanis, chiamato volgarmente come Siluro o Siluro d'Europa o Pesce Siluro. Così. E' un pesce d'acqua dolce europeo, appartenente alla famiglia Siluroidae. Il quale però è divenuto un meme a sproposito, che però viene spammato senza ritegno nel loro subreddit, che però, vabbè, che ve lo dico a fare. Chi vuole capire, capisca. O no? O no? Roba da matti. Un abbraccio, un abbraccio.